ecco buongiorno a tutti oggi sono qui a Nogarole Rocca al campo di volo che si chiama Camantovane prima di volare faccio un po' di controlli all'aereo infatti è già un po' di mesi che diciamo è fermo per cui controlliamo l'olio e quant'altro e anche adesso vediamo se parte ecco dopo i controlli era tutto a posto per cui sono pronto per fare un voletto questo insomma è l'aereo non è grande due posti non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti